Prosegue il conto alla rovescia sul ritorno della didattica in presenza al tempo del Green Pass. Aspettando il fatidico 15 settembre che riporterà gli studenti pesaresi sui banchi di scuola, sono i bambini più piccoli e le loro famiglie i primi a rientrare all'interno di istituti alle prese con la novità della certificazione verde. Mercoledì 8 settembre riaprono infatti 13 asili nido comunali rivolti ai piccoli fino ai tre anni. Lunedì 13 settembre seguiranno invece le scuole dell'infanzia. Si riparte con il possesso e l'esibizione obbligatoria della certificazione verde Covid-19 valevole per tutto il personale educativo e ausiliario presente nei plessi, sia quello comunale che quello delle cooperative affidatarie. Personale che ha ripreso servizio negli istituti il 30 agosto scorso e qualche giorno dopo sono scattati i controlli quotidiani sul rispetto di Green Pass. L'assessore comunale alla crescita Giuliana Ceccarelli ha riferito come su 218 lavoratori soltanto una persona è stata trovata sprovvista di certificazione e non ha potuto prendere servizio. Uno stop che arriva a pochi giorni da quello imposto a due insegnanti della scuola Galilei di Villa Fastigi sorprese a rientrare in servizio senza Green Pass. La norma prevede una sanzione che va da 400 a 1000 euro e l'allontanamento del servizio fino alla messa in regola. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro può essere sospeso senza la dovuta retribuzione.